5. Inseguimento dell'estraneo. Dirò per ora di quelle piccole che cominciai a fare in forma di pamdomime nella vispa infanzia della mia follia, davanti a tutti gli specchi di casa, guardandomi davanti e dietro per non essere scorto da mia moglie, nell'attesa smaniosa che ella, uscendo per qualche visita o compera, mi lasciasse solo finalmente per un buon pezzo. Non volevo già come un commediante studiar le mie mosse, compormi la faccia all'espressione dei vari sentimenti emoti dell'animo. Al contrario, volevo sorprendermi nella naturalezza dei miei atti, nelle subitane alterazioni del volto, per ogni moto dell'animo, per un'improvvisa maraviglia, ad esempio, e sbalzavo per ogni non nulla le sopracciglia fino all'attaccatura dei capelli, e spalancavo gli occhi e la bocca, allungando il volto come se un filo interno me lo tirasse, per un profondo cordoglio, e aggrottavo la fronte immaginando la morte di mia moglie, e succhiudevo occupamente le palpebre quasi a covar quel cordoglio, per una rabbia feroce, e digrignavo i denti pensando che qualcuno mi avesse schiaffeggiato, e arricciavo il naso, stirando la mandibola e fulminando con lo sguardo. Ma prima di tutto, quella maraviglia, quel cordoglio, quella rabbia, erano finte, e non potevano essere vere, perché se vere non avrei potuto vederle, che subito sarebbero cessate per il solo fatto che io le vedevo. In secondo luogo, le maraviglie da cui potevo essere preso erano tante e diversissime, e imprevedibili anche le espressioni, senza fine variabili anche secondo i momenti e le condizioni del mio animo. E così per tutti i cordogli e così per tutte le rabbie. E infine, anche ammesso che per una sola e determinata maraviglia, per un solo e determinato cordoglio, per una sola e determinata rabbia, io avessi veramente assunto quelle espressioni, esse erano come le vedevo io, non già come le avrebbero vedute gli altri. L'espressione di quella mia rabbia, ad esempio, non sarebbe stata la stessa per uno che l'avesse temuta, per un altro disposto a scusarla, per un terzo disposto a riderne, e così via. Ah, tanto bel senno avevo ancora per intendere tutto questo, e non potevo servirmi a tirare dalla riconosciuta inattuabilità di quel mio folle proposito la conseguenza naturale di rinunciare all'impresa disperata e starmi contento a vivere per me, senza vedermi e senza darmi pensiero degli altri. L'idea che gli altri vedevano in me, uno che non ero io, quale mi conoscevo, uno che essi soltanto potevano riconoscere guardandomi da fuori, con occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre a estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro, un mio dunque che non era per me, una vita nella quale, pur essendo la mia per loro, io non potevo penetrare. Quest'idea non mi diede più requie. Come sopportare in me questo estraneo? Questo estraneo che ero io stesso per me. Come non vederlo? Come non conoscerlo? Come restare per sempre condannato a portarmelo con me, in me, alla vista degli altri e fuori intanto dalla mia? Sei. Finalmente. Sai che ti dico, Gen-Gè? Sono passati altri quattro giorni. Non c'è più dubbio. Anna Rosa deve essere malata. Andrò io a vederla. Dida mia, che fai? Ma ti pare, con questo tempaccio? Manda Diego, manda Nina a domandare notizie. Vuoi rischiare di prendere un malanno? Non voglio, non voglio assolutamente. Quando voi non volete assolutamente una cosa, che fa vostra moglie? Dida, mia moglie, si pianto il cappellino in capo, poi mi porse la pelliccia perché gliela reggessi. Gongolai, ma Dida scorse nello specchio il mio sorriso. Ah, ridi? Cara, mi vedo obbedito così. E allora la pregai che almeno non si trattenesse tanto dalla sua amichetta, se davvero era ammalata di gola. Un quarto d'ora, non più, te ne scongiuro, ma assicurai così che fino a sera non sarebbe rincasata. Appena uscita, mi girai dalla gioia su un calcagno, stropicciandomi le mani. Finalmente. Sette. Filo d'aria. Prima vogli ricompormi, aspettare che mi scomparisse dal volto ogni traccia d'ansia e di gioia e che dentro mi s'arrestasse ogni moto di sentimento e di pensiero, così che potessi condurre davanti allo specchio il mio corpo come estraneo a me e come tale pormelo davanti. Su, dissi. Andiamo. Andai con gli occhi chiusi, le mani avanti, attentoni. Quando toccai la lastra dell'armadio, restetti ad aspettare, ancora con gli occhi chiusi, la più assoluta calma interiore, la più assoluta indifferenza. Ma una maledetta voce mi diceva dentro che era là anche lui, l'estraneo, di fronte a me, nello specchio, in attesa come me, con gli occhi chiusi. C'era e io non lo vedevo. Non mi vedeva neanche lui perché aveva come me gli occhi chiusi. Ma in attesa di che lui? Di vedermi? No. Egli poteva essere veduto, non vedermi. Era per me quel che io ero per gli altri, che potevo essere veduto e non vedermi. Aprendo gli occhi però lo avrei veduto così come un altro. Qui era il punto. Mi era accaduto tante volte di infrontare gli occhi per caso nello specchio con qualcuno che stava a guardarmi nello specchio stesso. Io nello specchio non mi vedevo ed ero veduto. Così l'altro non si vedeva ma vedeva il mio viso e si vedeva guardato da me. Se mi fossi sporto a vedermi anch'io nello stesso specchio avrei forse potuto essere visto ancora dall'altro. Ma io no, non avrei più potuto vederlo. Non si può a un tempo vedersi e vedere che un altro sta a guardarci nello stesso specchio. Stando a pensare così sempre con gli occhi chiusi mi domandai è diverso ora il mio caso o è lo stesso? Finché tengo gli occhi chiusi siamo due. Io qua e lui nello specchio. Devo impedire che aprendo gli occhi e gli diventi me e io lui. Io devo vederlo e non essere veduto. È possibile subito come io lo vedrò e gli mi vedrà e ci riconosceremo. Ma grazie tante io non voglio riconoscermi io voglio conoscere lui fuori di me. È possibile? Il mio sforzo supremo deve consistere in questo di non vedermi in me ma deve essere veduto da me con gli occhi miei stessi ma come se fossi un altro. Quell'altro che tutti vedono e io no. Su dunque calma al resto d'ogni vita e attenzione. Apri gli occhi. Che vidi? Niente. Mi vidi. Ero io. Là aggrondato carico del mio stesso pensiero con un viso molto disgustato ma salì una fierissima stizza e mi sorse una tentazione di tirarmi uno sputo in faccia. Mi trattenni. Spianai le rughe cercai di smorzare la cume dello sguardo ed ecco a mano a mano che lo smorzavo la mia immagine smoriva e quasi si allontanava da me. Ma smorivo anch'io di qua e quasi cascavo e sentì che seguitando mi sarei addormentato. Mi teni con gli occhi. Cercai di impedire che mi sentissi anch'io tenuto da quegli occhi che mi stavano di fronte. Che quegli occhi cioè entrassero nei miei. Non vi riuscì. Io mi sentivo quegli occhi. Me li vedevo di fronte ma li sentivo anche di qua in me. Li sentivo miei non già fissi su di me ma in se stessi e se per poco riuscivo a non sentirmi non li vedevo più. Ahimè era proprio così. Io potevo vedermeli non già vederli. Ed ecco come compreso di questa verità che riduceva un gioco il mio esperimento a un tratto il mio volto tentò nello specchio uno squalido sorriso. Sta serio imbecille gli gridai allora. Non c'è niente da ridere. Fu così santaneo per la spontaneità della stizza il cangiamento dell'espressione nella mia immagine e così subito seguì a questo cambiamento una tonita apatia in essa che io riuscì a vedere staccato dal mio spirito imperioso il mio corpo là davanti a me nello specchio. Ah finalmente. Eccolo là. Chi era? Niente era. Nessuno. Un povero corpo mortificato in attesa che qualcuno se lo prendesse. Moscarda. Mormorai dopo un lungo silenzio. Non si mosse. Rimasi a guardarmi attonito. Poteva anche chiamarsi altrimenti. Era là come un cane sperduto senza padrone senza nome che uno poteva chiamar flick e un altro flock a piacere. Non conosceva nulla né si conosceva. Viveva per vivere e non sapeva di vivere. Gli batteva il cuore e non lo sapeva. Respirava e non lo sapeva. Muoveva le palpebre e non se ne accorgeva. Gli guardai i capelli rossigni. La fronte immobile, dura, pallida. Quelle sopracciglia ad accento circonflesso. Gli occhi verdasteri, quasi forati qua e là nella cornea da macchioline giallognole, attoniti. Senza sguardo. Quel naso che pendeva verso destra, ma di bel taglio aquilino. I baffi rossicci che nascondevano la bocca. Il mento solido un po' rilevato. Ecco, era così. Lo avevano fatto così. Quel pelame. Non dipendeva da lui essere altrimenti. Avere un'altra statura. Poteva sì alterare in parte il suo aspetto. radersi quei baffi, per esempio. Ma adesso era così. Col tempo sarebbe stato calvo o canuto, rugoso o floscio, sdentato. Qualche sciagura avrebbe potuto anche svisarlo. Fargli un occhio di vetro o una gamba di legno. Ma adesso era così. Chi era? Ero io? Ma poteva anche essere un altro. Chiunque poteva essere quello lì. Poteva avere quei capelli rossigni, quelle sopracciglia ad accento circonflesso e quel naso che appendeva verso destra. Non soltanto per me, ma anche per un altro che non fossi io. Perché dovevo essere io questo così? Vivendo, io non rappresentavo a me stesso nessuna immagine di me. Perché dovevo dunque vedermi in quel corpo lì come in un'immagine di me necessaria. Mi stava lì davanti quasi inesistente. Come un'apparizione di sogno quell'immagine. E io potevo benissimo non conoscermi così. Se non mi fosse mai veduto in uno specchio, per esempio, non avrei forse per questo seguitato ad avere dentro quella testa lì sconosciuta i miei stessi pensieri? Ma sì, e tanti altri che avevano da vedere i miei pensieri con quei capelli di quel colore i quali avrebbero potuto non esserci più o essere bianchi o neri o biondi? E con quegli occhi lì verdastri che avrebbero potuto anche essere neri o azzurri? E con quel naso che avrebbe potuto essere dritto o camuso? Potevo benissimo sentire anche una profonda antipatia per quel corpo lì e l'assentivo. Eppure io ero per tutti sommariamente quei capelli rossigni, quegli occhi verdastri e quel naso, tutto quel corpo lì che per me era niente, eccolo, niente. Ciascuno se lo poteva prendere, quel corpo lì. Per farsene quel moscarda che gli pareva e piaceva, oggi in un modo e domani in un altro, secondo i casi e gli umori. E anch'io. Ma sì, lo conoscevo io forse. Che potevo conoscere di lui? Il momento in cui lo fissavo è basta. Se non mi volevo e non mi sentivo così come mi vedevo, colui era anche per me un estraneo, che aveva quelle fattezze, ma avrebbe potuto averne anche altre. Passato il momento in cui lo fissavo, egli era già un altro. Tanto vero che non era più qual era stato da ragazzo, e non era ancora quale sarebbe stato da vecchio, e io oggi cercavo di riconoscerlo in quello di ieri, e così via. E in quella testa lì, immobile e dura, potevo mettere tutti i pensieri che volevo, accendere le più sveriate visioni. Ecco, d'un bosco che nereggiava placido e misterioso sotto il lume delle stelle, di una rada solitaria, malata di nebbia, da cui salpava lenta spettrale una nave all'alba. D'una via cittadina brulicante di vita, sotto un nembo sfolgorante di sole che accendeva dei riflessi purpurei i volti, e faceva guizzar di luci vario pinte i vetri delle finestre, gli specchi, i cristalli delle botteghe. Spengevo a un tratto la visione, e quella testa restava lì, di nuovo immobile e dura, nell'apatico attonimento. Chi era colui? Nessuno. Un povero corpo, senza nome, in attesa che qualcuno se lo prendesse. Ma all'improvviso, mentre così pensavo, avvenne tal cosa che mi riempì di spavento più che di stupore. Vidi davanti a me, non per mia volontà, l'apatica attonita faccia di quel povero corpo mortificato scomporsi pietosamente, arrecciare il naso, arrovesciare gli occhi all'indietro, contrarre le labbra in su e provarsi ad aggrottare le ciglia, come per piangere. Restare così un attimo sospeso, e poi crullar due volte a scatto per lo scoppio di una coppia di starnuti. S'era commosso da sé, per conto suo, a un filo d'aria è entrato chissà donde, quel povero corpo mortificato, senza dirmene nulla, è fuori della mia volontà. Salute, gli dissi, e guarda nello specchio il mio primo riso da matto. 8. E dunque? Dunque niente, è questo. Se vi par poco, ecco una prima lista delle riflessioni rovinose e delle terribili conclusioni derivate dall'innocente e momentaneo piacere che Dida, mia moglie, aveva voluto prendersi. Dico, di farmi notare che il mio naso mi pendeva verso destra. Riflessioni 1. Che io non ero per gli altri quel che finora avevo creduto d'essere per me. 2. Che non potevo vedermi vivere. 3. Che non potendo vedermi vivere, restavo estraneo a me stesso, cioè uno che gli altri potevano vedere e conoscere, ciascuno a suo modo, e io no. 4. Che era impossibile pormi davanti questo estraneo per vederlo e conoscerlo. 5. Che il mio corpo, se lo consideravo da fuori, era per me come un'apparizione di sogno, una cosa che non sapeva di vivere e che restava lì in attesa che qualcuno se la prendesse. 6. Che come me lo prendevo io, questo mio corpo, per essere a volta a volta quale mi volevo e mi così se lo poteva prendere qualunque altro per dargli una realtà a modo suo. 7. Che infine quel corpo, per se stesso, era tanto niente e tanto nessuno che un filo d'aria poteva farlo sarnutire, oggi e domani portarselo via. 8. Conclusioni. Queste due per il momento. 1. Che cominciai finalmente a capire perché Dida, mia moglie, mi chiamava Gen-J. 9. Che mi proposi di scoprire chi ero io almeno per quelli che mi stavano più vicini, cosiddetti conoscenti, e di spassarmi a scomporre dispettosamente quell'io che ero per loro. 9. Che mi proposi di scoprire chi ero io almeno per loro. Non bisogna di scoprire chi ero io almeno per loro.